Il governo metropolitano si costruisce in base alla legge con la costituzione di un comitato promotore, cosa che abbiamo fatto insieme al sindaco Pisapia e agli altri sindaci dei comuni intorno a Milano la settimana scorsa. Abbiamo poi oggi un momento di riflessione generale anche con esperienze che vengono da altre realtà territoriali. Il comitato farà una proposta, questa proposta sarà sottoposta al vaglio dei cittadini, al referendum che viene fatto proprio specificatamente per questo, dopodiché si realizza questo governo di un livello superiore a quello municipale su poche importanti materie che sono quelle che poi stanno a cuore al cittadino, il trasporto pubblico, l'aria che si respira, l'acqua, i rifiuti, la qualificazione professionale per coloro che hanno perso il lavoro o devono entrare nel mondo del lavoro, la pianificazione territoriale. Questi sono gli unici temi affidati al governo metropolitano. Una distinzione chiara tra chi fa che cosa e non più una sovrapposizione tra funzioni della provincia e funzioni dei comuni. Se l'area metropolitana nasce nella provincia di Milano, tutto si inserisce secondo me nel quadro delle riforme delle nuove province e dell'abolizione delle province. Io farei un raggiamento più articolato. Ritengo che il tema delle aree metropolitane debba trovare una giusta collocazione al dibattito delle riforme relative all'abolizione delle province. È evidente che le province, se dovessero scomparire, non potranno che essere sostituiti da organismi di governo del territorio che si sostituiscano alle funzioni delle province. In quella logica, nella logica di evitare che si colmino dei vuoti, il discorso della individuazione dell'area metropolitana può trovare sicuramente un momento di ampia riflessione. Mi pare che il concetto espresso dal Presidente del Senato sia chiarissimo. Vi è una volontà di cambiamento necessario, richiesta dai cittadini e dalla base. Operiamo tutti insieme, come ha detto il Presidente del Senato, facciamo squadra perché vi sia la soluzione migliore in campo. Grazie.